Diventare cittadini del mondo non vuol dire solamente viaggi, tecnologia o smart working, ma anche rispettare la natura e soprattutto conoscere l'agricoltura e la madre terra, origine di quello che troviamo nel piatto ogni giorno. Con Agricultura, giunta alla 26esima edizione, l'Istituto Raineri Marcora dedica due giornate proprio alla valorizzazione della forte vocazione agricola del territorio e della formazione scolastica. Si va verso l'agricoltura sostenibile, verso la sostenibilità del territorio e delle operazioni che al territorio sono connesse, con un'apertura anche a tutta quella che è la preparazione dei nostri ragazzi, che dovranno sempre di più affrontare nuove sfide legate proprio alla sostenibilità dell'ambiente. Un settore che a Piacenza offre una filiera formativa completa, dall'Istituto Raineri Marcora fino all'Università Cattolica. Oggi, come non mai, essendo l'agricoltura uno degli assi portanti dell'economia del territorio, questo momento rappresenta un punto di partenza fondamentale, ma anche di continuità con quella che è la formazione professionale e umana, mi permetto di dire, dei ragazzi e delle ragazze che a questa scuola si rivolgono. Durante la cerimonia è stata inaugurata una serra idroponica finalizzata al risparmio idrico. Sono molto orgogliosa di questa importante attività della serra idroponica, che costituisce un passaggio di innovazione, oltre che di sostenibilità, perché il ruolo della serra idroponica è anche gestire un'agricoltura in risparmio idrico. E poi è un momento sociale molto importante in cui anche i ragazzi scoprono l'orgoglio di appartenere al mondo dell'agricoltura. Un mondo grande, importante, sia dal punto di vista economico, ma anche e soprattutto dal punto di vista umano. La Due Giorni è dedicata anche ai più piccoli, con laboratori didattici e uno spazio di colore con la seconda edizione del concorso Bentornato Spaventapasseri. Domani il convegno dedicato al mercato del lavoro in agricoltura.